a tutti ragazzi da Mario Inter buonasera a tutti ebbene sì ragazzi mi sono vista la partita Juventus Lazio e bisogna dire che questa Juventus ragazzi ho notato parecchie cose ora ve le voglio dire numero uno la Juve ancora imballata cioè la Juve ancora ha le gambe pesanti questa non è la vera Juventus e già sta incominciando a vincere questa Juventus ha la stessa preparazione atletica dell'anno scorso dove aveva problemi all'inizio a vincere le partite quest'anno invece le sta pure vincendo ma come si fa a dare cansello io quando vedo cansello mi viene da piangere ma ne è giuda poi c'è da dire che la Juventus non è solo Ronaldo come avete visto questa Juventus è pronta è pronta per fare quel salto di qualità sono grintosi non c'è niente da fare picchiano giocano 90 minuti Manzucic agli ultimi minuti andava a fare il difensore poi hanno una difesa bella allineata insomma il centrocampo sa attaccare e sa difendere speriamo bene anche noi domani speriamo bene anche noi la prima abbiamo steccato abbiamo fatto proprio cacare la prima contro il Sassuolo abbiamo fatto cacare speriamo bene la seconda perché se vuoi essere veramente l'anti Juve e giochi come hai giocato a Reggio Emilia è meglio che non ci avviciniamo però però sono le prime partite stiamo a vedere la Juve migliorerà sicuramente ve lo garantisco io che la Juve migliorerà la Juve poi un indomani inizierà a ingranare ingraneranno tutti ingranerà pure Cristiano Ronaldo ingrana Di Bale ingranano tutti la Juve ancora è imballata la Juve ha tre competizioni se le vuole giocare tutte e tre capito perché si sentono stanchi ancora ancora questo non è niente loro sono ancora al 70% al 70 stiamo a vedere ragazzi ve lo metto per iscritto stessa preparazione atletica dell'anno scorso uguale solo che l'anno scorso hanno avuto un pochino di problemi come contro il Chievo quest'anno invece ha botto di culo contro il Chievo e questa qui invece l'hanno vinta meritatamente e fatta la partita certo non dico che è contro il Chievo la botto di culo perché cazzinato all'ultimo secondo se no come occasioni meritava la Juventus non è che dico di no occhio ragazzi perché questa Juve è veramente forte molto molto forte lo dico da interista io la Juve la voglio vedere morta ve lo garantisco raga io interista non sono come quell'altro interista lì che spera che l'Inter perde per fare visualizzazioni e parlare sempre bene della Juventus no però sportivamente parlando io dico anche la mia e dico che questa Juve è veramente forte ve lo metto per iscritto speriamo bene noi domani un saluto a tutti da Mario Inter e ahimè cara Lazio che batosta non hai fatto un tiro in porto un tiro in porto che cavolo ma giocatela la partita sti cavolo di a giocare in contropiede ma perché con la Juve non giocate in attacco giocato a viso aperto poi giocate contro l'Inter giocato contro la Roma giocato contro il Milan tutto a viso aperto ve l'hai giocato con la Juve dovete giocare sempre con queste tattiche qui ripartiamo in contropiede ma ma nelle prime partita la devi attaccare alla Juve che ancora sono al 70 per cento di condizione che poi un in domani se ti gioca a viso aperto con la Juve te ne fa set vabbè non mi credete ahimè io al calcio giocate lo so poi ne parliamo più in là poi vediamo chi ha ragione un saluto a tutti da Mario Inter la Juve è forte ciao